Ogni qualvolta piove per qualche giorno ritorna ad attualità il problema a Montevescovado. Si moltiplicano infatti le segnalazioni di infiltrazioni negli appartamenti, insistenti quelle sollevate dai condomini della palazzina B11. L'acqua si infiltra dappertutto causando anche disagio alla linea elettrica. Basterebbe una riqualificazione del solaio con la stesura di nuove lamine d'asfalto. La sollecitazione è stata avanzata diverse volte ma se sempre punte da capo ogni qualvolta ritorna la pioggia. Abbiamo avuto i danni in casa. Noi chiediamo al sindaco che ci fa le piccole manutenzioni del palazzo. Non è che vogliamo che sa che. Però un aiuto lo vogliamo perché lui è venuto qua con l'ufficio tecnico, ha detto che ci aiutava, ci aggiustava sopra, ci metteva l'asfalto. Però qua prima di Natà poi non c'è più nessuno. E noi come dobbiamo fare? E c'è anche il problema dei disabili che in questo palazzo non riescono a salire perché le scale sono quasi inagibili. Sì perché comunque anche c'è anche mio fratello che è disabile quindi c'è anche c'è paura perché quando piove non può neanche scendere perché comunque visto considerato che qua non c'è una copertura, non c'è niente, lui ha disagio per salire e per scendere. E le scale diventano un fiume? Sì sì perché c'è molta acqua, ci sono molte infiltrazioni quindi poi c'è anche una persona che è proprio allettata, anche quando viene l'ambulanza non lo può scendere e quindi hanno anche difficoltà in questa cosa. Chiedo un appello al sindaco per l'ennesima volta di venire qua per controllare la situazione di questo palazzo e di altri palazzi come questo qua che hanno delle problematiche gravi.